4 a 1 per il Real Montepone nei confronti della Chiaravalle, un derby importante, importante per tutte e due le squadre, il Real Montepone che deve continuare in testa alla classifica, il Chiaravalle che deve cercare di fare punti per togliersi dalla zona play-out. Togliersi ormai è difficilissimo Antonio Iozzo perché ormai siete messi in quella posizione, l'unica cosa che si potrà vedere è la posizione con cui dovrete fare probabilmente un play-out in casa e contro chi. Questa è la vostra aspirazione? I play-out non sono difficili, sono impossibili farli ormai, ormai è normale disputare i play-out, dispiace solo perché li disputiamo appunto, perché avevamo fatto una prima parte di stagione veramente importante, avevamo chiuso il giro in andata con 18-19 punti se non mi sbaglio, ritrovarci ancora con pochi punti, questo da parecchia amarezza in noi compagni perché sappiamo che potevamo fare qualcosa in più e non l'abbiamo fatto. Ecco, dov'è che pensate di aver sbagliato in questo campionato? Qual è la partita per esempio con il maggiore rammarico? Ma il maggiore rammarico sicuramente c'è 1-0 e all'ultimi 30 secondi ci vediamo giustamente pareggiata una partita perché è impossibile andare là a pareggiare, è una partita vinta, 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 sotto tutti gli aspetti dal gioco e dai gol. Poi ce l'hanno pareggiata e là forse è stato quell'attimo che ci ha fatto mollare un pochettino tutti, anche se alla fine non possiamo, non è una scusante mollare, abbiamo chiuso il giro in andata con 18 punti ed è una cosa diciamo impensabile fare i play-out. Adesso tre partite, già comincerete la domenica prossima con la Serrese, poi addirittura l'ultima con il San Calogero, se il San Calogero dovessi essere ancora in corsa per il primo posto. Oggi il vostro tecnico ha dipostrato di pensare alla partita di domenica scorsa perché vi ha cambiato parecci quando ormai il risultato era acquisito. Sì, diciamo che sul 2-0 era normale, dovevo uscire io perché ero diffidato, dovevo uscire il mio compagno Andrea Borelli perché era diffidato. Andrea Maida l'avevamo cacciato perché era munito e poi ce lo vediamo espulso, un cortino rosso, ma non so se ha ragione o non ha ragione l'albitro. Però in queste partite quando ormai la partita è 2-0, 3-0, non puoi, si è cacciato proprio la maglia al momento che stava uscendo. Il regolamento alla mano è giusto però un po' esagerato come decisione. Allora, da regolamento è ammunizzato tutta la vita quindi non gli possiamo fare niente. Però se voleva ho messo una mano sulla coscienza, l'albitro poteva evitare, chiudere un occhio, non è che è distrutta questa partita nervosa. Mettavano 2 metri la linea laterale. Ma 2 metri appunto, infatti quello che gli ho spiegato anche all'albitro non mi ha voluto sentire e vabbè non poteva sentire a me perché dopo che ha preso una decisione non poteva tornare indietro. Quindi è normale, ormai la decisione l'aveva presa e ci vediamo senza Andrea Mai dalla prossima giornata. Meno 3 o meno 7 a che dir si voglia, meno 3 partite alla fine, meno 7 punti alla conquista di questo primato. So che Alessandro Pisano questi conti non li fa, sono io a fare perché sono io il contabile della situazione. Però il fatto sta che la situazione adesso è questa Alessandro. No, non li abbiamo fatti prima, figuriamoci se ci mettiamo a fare adesso dei conti che non andrebbero assolutamente bene per la mentalità che abbiamo mantenuto per tutto il campionato. Quindi in questo momento noi ragioniamo partita dopo partita, ancora di più di prima, come abbiamo fatto in questa settimana. Perché vista la partita oggi vuol dire che la squadra non ha avuto nessun rilassamento, non ha abbassato la tensione per niente. Anche se ci poteva stare dopo la conquista di un primato solitario e quindi ci potevano essere dei segnali non positivi. Però fortunatamente la squadra ha reagito benissimo. E allora partita dopo partita cominciamo da quella di oggi. Avete giocato diciamo con quasi la certezza di quella che prima o poi il gol lo avrebbe trovato. Anche se secondo me i primi 35 minuti un pochettino avete sentato. No, è già da un po' che noi giochiamo con una certa tranquillità da questo punto di vista. Ed è la soddisfazione più grande che ho avuto quest'anno. Cioè vedere una squadra che è convinta dei propri mezzi e che riesce comunque attraverso le sue conoscenze a cercare di mettere in difficoltà l'avversario. Probabilmente ci crediamo sempre di poter trovare la via del gol, di poter riuscire a trovare lo spazio giusto per andare in rete. Quindi questo fa sì che le partite vengano affrontate con una certa tranquillità. Quella che ho visto oggi nonostante i primi 20 minuti, forse 35 sono tanti, 20 minuti sicuramente non di altissimo livello. Perché comunque ci stava contro una squadra che deve salvarsi, che ha messo tanta grinta in campo, ci stava di trovare delle difficoltà. Però sono contento del fatto che strada facendo il gioco della squadra ha prevalso. E partita dopo partita arriviamo a quella di domenica prossima. Perché secondo quello che noi operatori della carta, del giornalismo diciamo, piccoli giornalisti diciamo, potrebbe essere la partita un po' complicata per il Montepaone. Quella di domenica prossima a Bivongi contro il Monasteraci. Complicata sicuramente, non c'è dubbio. Difficile perché quando si gioca contro squadre che devono salvarsi sono partite complicatissime. Noi la affrontiamo come abbiamo fatto in tutte le settimane. Cercheremo di prepararla al meglio con la nostra massima tranquillità, massima convinzione di poter andare a fare risultato anche su quest'altro campo. È normale che ci possano essere delle situazioni magari mentali che ti fanno pensare che quando si vede un pochettino l'obiettivo all'orizzonte possono inserirsi in un lavoro generale già fatto. Invece noi non dobbiamo cadere in questi trenelli. Noi dobbiamo pensare che questi sono tre punti come tutte le altre gare. Credo che alla fine, se siamo così bravi da riuscire a raggiungere questo obiettivo, poi effettivamente ci possiamo trovare vicino a un traguardo. Io conosciuto e ho detto che in telecronica tu prepareresti la partita anche se dovessi giocare contro il Turopea che non è più in campo. Assolutamente, non c'è assolutamente dubbio. Ne ho viste così tante nel calcio che non è assolutamente... Quella di domenica scorsa che ho visto io a Borgio con il San Carogero. Eh, ho saputo qualcosa di una partita rocambolesca, a dir poco, ma questo è il calcio, poi ti dà, ti toglie. Quindi noi dobbiamo essere bravi a non credere di essere al di fuori di ogni situazione. Noi in questo momento dobbiamo essere bravi a continuare con la stessa convinzione che ci abbiamo messo fino ad oggi e ci ha portato ad essere a tre partite dalla fine con tre punti di vantaggio sulla seconda.